Mozioni, interrogazioni e debiti fuori bilancio. Su questo sarà impegnato il Consiglio Comunale di Milazzo che dopo quasi due mesi riprende i lavori convocati per questa sera dal Presidente Alessandro Oliva. 11 punti all'ordine del giorno. Si inizia con due debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di valore comunque modesto, uno di 435 euro ed un altro di circa 2.500 euro. Poi le mozioni su Milazzo, Autism Friendly e l'intitolazione della piazza antistante alla parrocchia della trasfigurazione a Monsignor Giuseppe Cutropia e in avanti le interrogazioni dal piano del verde pubblico comunale alle problematiche di Palazzo D'Amico, dalla riapertura del teatro Trifiletti alla messa in sicurezza del torrente Mela, dall'abbattimento delle barriere architettoniche alla cittadella fortificata alle criticità dell'avvio dei servizi a pagamento. Infine l'esecutivo di Pippo Midili ha approvato il progetto di riqualificazione del parco gioco inclusivo di piazza San Papino redatto dall'architetto Carmelo Draga per oltre 53.000 euro. Queste risorse l'esecutivo vuole recepirle dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 che prevede contributi per investimenti in infrastrutture sociali.